Via Libera dal Consiglio Comunale di Prato-La Peligna, la proposta di approvazione del PRG per il trasferimento della scuola dell'infanzia di via indipendenza in un edificio privato a Contrada-Codacchio. Con il voto della maggioranza e l'astenzione dei gruppi di opposizione, la proposta, già recepita in un'apposita delibera della Giunta Comunale, guidata dal sindaco Antonella Di Nino, passa e mette dunque in movimento l'iter per il trasferimento dei bambini della scuola dell'infanzia a partire dal prossimo anno scolastico. Lamentiamo continuamente la ristrettezza degli spazi per i bambini nello stabile di via indipendenza, sostiene il sindaco nel suo intervento in aula e pertanto riteniamo che questa soluzione sia la migliore per rispondere concretamente alla domanda di spazi nuovi e sicuri. Ma il primo cittadino nel corso della seduta consigliare ha dato anche comunicazione dell'ufficialità della gradatoria legata ai finanziamenti previsti nell'ultima legge di stabilità e richiesti per 4,2 milioni di euro dall'amministrazione. Le 6 richieste del comune di Pratola sono classificate dal 3.411 al 3.416 sul totale delle 5.904 presentali dei comuni, conclude il sindaco. E sembra paradossale, ma non lo è. Sono state ammesse a finanziamento 146 richieste inoltrate da comuni che presentano un disavanzo di bilancio, un dato francamente discutibile. Nel corso della seduta il Consiglio Comunale ha approvato anche il rendiconto.